Partita in pausa Qui non è possibile, mio signore Partita in pausa In attesa di ordini Partita in pausa Partita in pausa Partita in pausa Qui non è possibile, mio signore Qui non è possibile, mio signore Partita in pausa Sì? Vado Partita in pausa Partita in pausa Partita in pausa Vostra grazia Partita in pausa Partita in pausa Agli strumenti d'assedio Partita in pausa In attesa di ordini Arciari pronti Ci muoviamo Immediatamente Balestra pronta Partita in pausa 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 In attesa di ordini Partita in pausa Forza 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 Non soffriranno neppure Partita in pausa 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 Servono più armi Servono più armi Partita in pausa 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 C'è il capo? Sono già morti Partita in pausa 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 Partita in corso Noi siamo in mazzone Carne morta Partita in corso Gli edifici sono in fiamma Partita in pausa Cosa mi serve? Mettete a pezzi amici Bisogna di muscoli Partita in pausa Partita in pausa Partita in corso Cosa? Mettete a pezzi amici Partita in pausa Partita in corso partita in pausa partita in pausa partita in corso un messaggio da cuor di leone le nostre scorte di questi beni scherzeggiano partita in pausa partita in corso un messaggio da calico diamo inizio all'asse ai giugnieri uccidetele tutti un messaggio da cuor di leone le nostre scorte di questi beni scherzeggiano un messaggio dal visio i miei guerrieri mi hanno deluso partita in pausa partita in pausa partita in pausa muovetevi cani forza forza andiamo muovetevi cani forza forza andiamo sono carne morta partita in pausa un messaggio da cuor di leone lo standardo reale è in grave pericolo devi accorrere in mio aiuto noi siamo i mazzieri cosa fino a là cosa mi serve partita in pausa partita in corso partita in pausa partita in pausa partita in pausa partita in pausa Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Gli edifici sono in fiamme, Sire. Un messaggio dal Califo. Guardati alle spalle, cavaliere. Guardati le spalle. Partita in corso. Partita in corso. Serve del legname. Gli edifici sono in fiamme, Sire. Siamo sotto attacco. Gli edifici sono in fiamme, Sire. Qui non è possibile, mio signore. Qui non è possibile, mio signore. Gli edifici sono in fiamme, Sire. Gli edifici sono in fiamme, Sire. Un messaggio dal Califo. Guardati alle spalle, cavaliere. Guardati le spalle. Muovetevi, cadi. Le scorte di cibo stanno calando, mio Sire. Cosa? Forza, forza! Qui puoi alleati. Un messaggio da guardi, leone. Sono in marcia. Sì, capo. Andiamo. Muovetevi, cadi. Forza, forza! Noi siamo un mazzieri. Cosa vi serve? Andiamo. Muovetevi, cadi. Forza, forza! Forza, forza! Andiamo. Partita in pausa. Partita in corso. Partita in pausa. Partita in corso. Partita in pausa. Partita in pausa. Partita in corso. Bisogna di muscoli. Muovetevi, cadi. Cosa? Un messaggio dal calipto. Allontana nessun esercito dalle mura del mio cartello. Immediatamente. Cosa vi serve? Andiamo. Muovetevi, cari. Un messaggio dal calipto. Guardati all'estrante, cavalliere. Guardati all'estrante. Cosa vi serve? Bisogna di muscoli. Forza, forza! Cosa? Un messaggio dal calipto. Non mi hai ancora scontritto del più di un minuto. Fedele. Andiamo. Un messaggio dal cuor di leone. Bel lavoro, mio signore. Siamo realmente impressionati dalle tue geste. Muovetevi, cari. Cosa fino a là? Un messaggio dal cuor di leone. Bel lavoro, mio signore. Siamo realmente impressionati dalle tue geste. Cosa vi serve? Forza, forza! Sono già morti. Non soffri. Cosa ti ho perso? Cicco. Non soffri. Sono già morti. Un messaggio dal visire. Lascia stare il mio castello. Non ho perso un uomo di l'altra. Non lo rivisco. Non lo rivisco. Un messaggio dal visire. Non lo stavo prevista. Non dovevo morire. No! Tuoi alleato. Un messaggio da cuor di leone. Bel lavoro, mio signore. Siamo realmente impressionati dalle tue geste. Partite in partite in... Un messaggio da cuor di leone. Bel lavoro, mio signore. Siamo realmente impressionati dalle tue geste. Un messaggio da cuor di leone. Sono in marcia. Partite in pausa. Partite in pausa. Cosa? Gli edifici sono in fiare. Partite in pausa. Partite in pausa. Un messaggio dal canizio. Guardati alle tante, cavaliere. Guardati alle tante. Guardati alle tante. Guardati alle tante. Sì, un capo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.